Vado a una domanda sul rapimento che abbiamo ricevuto da parte di Maria Carmela che dice L'ultima tromba che è l'ultima. Loro mi hanno risposto che Dio non si riferiva alle sette trombe ma alla tromba di Dio. Ho detto di portarmi un passo biblico di riferimento e sto aspettando che mi rispondano. Dio vi benedica per il corso biblico sull'Apocalisse. Lo sto insegnando ad altre sorelle in Cristo, circa 15 sorelle che hanno perfettamente capito il messaggio. Wow, bellissimo! Grazie Gesù! Ringraziamo il Signore Maria Carmela. 15 sorelle che hanno capito perfettamente il messaggio. Quindi le scritture sono chiare, non è tanto difficile. Ma lei chiede riguardo al rapimento che ha spiegato a questi pastori che ci sarà il rapimento all'ultima tromba. Allora dicono no, 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 niente a fare con le sette trombe. Questa sorella qui ha trovato una quindicina di pecorelle con le quali, con i quali, sta condividendo la parola, la profezie. E' inutile che impariamo le profezie e poi le teniamo sotto il letto, sotto il tappeto. Quindi sa sorella, Dio la benedica, non tieni la parola nascosta nel suo cuore egoisticamente. Dio ti benedica, Carmela. Fratelli, seguiamo il suo esempio. Ovunque siete, per le strade, nelle case, parenti, in una chiesa, ovunque vi trovate, invitare le pecorelle a casa vostra o a qualche parte per condividere e studiare la parola. Amen? Amen. Glorie a Dio. In conclusione? Fratello Giuseppe, il rapimento che sarà al suono della tromba, sarà al suono della settima tromba o sarà al suono di una tromba? Non so quale, loro dicono non le sette trombe di Apocalisse, no, ma una tromba di Dio. Non sanno qual è la tromba, però non sono le sette. No, non sono le sette. Cioè le sette che la Bibbia parla non sono. Quella che la Bibbia, almeno nel Nuo Testamento, non parla e quella è la tromba. Quale? Non si sa. Al solito la religione è in alte acque. Allora, puoi riassumere la domanda in due parole per i fratelli che magari erano distratti? Oh, ok. Il rapimento. Molti pastori evangelici dicono che il rapimento sarà sì al suono della tromba di Dio. Sì, è scritto. Non puoi confonderti. Primo Corinzi 15, 52. Ma lo sai perché dicono quello? È scritto. Però dicono che non c'entra niente con le sette trombe. Sai perché? Ma il rapimento avverrà al suono della tromba di Dio. Poi nella Bibbia, nel Vene Testamento, ci sono tante, tante, tante trombe. Ma lo sai perché dicono questi filantrocchi? Lo sai perché? No. Perché vogliono negare che la settima tromba che la Bibbia dice è il rapimento, e adesso magari lo studiamo un po' in Apocalisse 11, vogliono semplicemente dire che non è, cioè la settima tromba della Bibbia non è il rapimento perché questo contraddice le loro bugie. Perché allora non può essere prima della tribolazione. E appunto, cioè se loro seguono la Bibbia, la Bibbia dice che il rapimento è la settima tromba, come appunto dichiarato in Primo Corinzi 15, 51, 52, Apocalisse 11, 15, adesso lo studiamo. Cioè questo mostra che loro stanno predicando bugie e che il rapimento è dopo la tribolazione. e siccome loro questo non lo possono ingoiare, va bene, perché la verità gli fa venire mal di stomaco, e loro devono inventare che il rapimento non è nelle sette trombe. E chi l'ha detto? Quando invece questo è quello che dice la Bibbia, è una delle trombe del Vecchio Testamento. Sempre adorare il Vecchio Testamento questi qua. Ma comunque, vabbè, leggi di Esodo 19, 16, guarda. Vai a Esodo 19, 16. Esodo 19. Parla delle trombe del Vecchio Testamento, così vedete che non c'entra niente. 16. Il terzo giorno fu come mattino. Ci furono tuoni, lampi, una fitta nuvola sul monte, e si udì un fortissimo suono di tromba. Tutto il popolo che era nell'accampamento tremò. Esodo 19, 16. Esodo 20. Questo fu quando Dio ha dato la legge di Mosè sul monte? Sì, sì. Quando la legge fu data fu un suono di tromba? Sì. Ok. C'entra niente, questi qua. Questi stanno arrampicando sugli specchi, sui vetri. Esodo 20. 20 al 18. Or tutto il popolo udiva i tuoni, il suono della tromba, e vedevano i lampi e il monte fumante. A tal vista tremava e stava lontano. Esodo 20, 18. Allora, qui conviene andare direttamente, guarda, primo corinzi 15, 51 e 52. Andiamo lì, guarda. Perché poi nel Vecchio Testamento ci sono state anche le trombe di Gerico. Ma sì, c'è stata una tromba di Gerico. Esichiele 33 dice, quando senti la sentinale a suonare la tromba e non ti prepari, sarai distrutto. Sì, ma dov'è collegamento con il rapimento? Questi stanno arrampicando sui vetri, vai. Ci sono trombe dappertutto. Sì, ma non c'è collegamento con il rapimento. Tranne che a questi qua non interessa dire che il rapimento è quella tromba del Vecchio Testamento. Questo non gli interessa. Lo citano solamente perché devono distruggere la verità che il rapimento è la settima tromba di Apocalisse, capitolo 11. Adesso lo studiamo. Va bene. Allora sono lì, un po' come gli ebrei, che siccome Daniele, capitolo 9, 24 a 27, mostra l'anno, il preciso anno della crucifissione di Cristo, 70 settimane e 490 anni, quindi 483 anni fino alla crucifissione di Cristo, corregge se mi sbaglio, e quindi questa profezia, Daniele 9, 24 a 27, indica la crucifissione di Cristo. Gli ebrei questo non lo possono accettare, nonostante sia nero su bianco. E loro hanno cambiato, cosa hanno fatto? Hanno cambiato il calendario ebraico. Mentre la Bibbia è chiarissima, come tutte le chiese cristiane lo mostrano, che il calendario vero è che il mondo fu creato 6.000 anni fa, circa, per gli ebrei adesso invece di essere all'anno 6.000, siamo nell'anno 6.000, nel calendario ebraico l'anno è 5.784. Questo anno per gli ebrei è 5.784, sbarretta 85, perché loro cominciano a mesi diversi. Ci siamo? E questi pastori, il pentecostale è logico, stanno facendo lo stesso sbaglio, è come con John Darby e la dispensazione, è lo stesso, si inguaino sempre così. Ma comunque, guarda, andiamo avanti che facciamo un piccolo studio, vale la pena, no Angelina? Hai detto di leggere Primo Corinzi 15? Ah sì, non l'ho letta ancora. No, 52. O 51. 51. Ecco, io vi dico un mistero, non tutti morremo, ma tutti saremo trasformati in un momento, in un batter d'occhio al suono dell'ultima tromba, perché la tromba squillerà, squillerà, e i morti risusciteranno incorruttibili, e noi saremo trasformati. Primo Corinzi 15, 51 e 52. Ok, quindi dice al suono quale tromba? Ultima. Quella di Gerico? No. Quella del Monte Sinai? No. Quella della mia nonna? No, non lo so, la tua nonna non so. Dice l'ultima tromba, non c'è nessuna ultima tromba nel Vecchio Testamento. Eh no, no, no. Perché le trombe per gli ebrei continuano e continuano e continuano, quindi dov'è l'ultima? Ma non c'è. E come chiedono a un matematico, matematico dimmi qual è il numero più grande? Dammi il numero più alto. Non c'è il numero più alto. Non facciamo domande stupide. Però Paolo dice che saremo rapiti all'ultima tromba. Però a questi fratellini, che io li amo tanti, li amo tanto pentecostali, non gli sta bene. Dobbiamo andare nel Vecchio Testamento. Quale tromba? Non si sa quale tromba. Nessuno lo sa. Però una di quelle trombe? Ma guarda che questi, chi crede troppo nelle trombe, finisce trombato. Cerchiamo di non uscire fuori binario. È logico che se predichiamo queste teorie, e chi le profezie non le conosce bene, uno che è seduto a riscaldare la panca, gli può dire sopra la panca la pecora la campa, sotto la panca la pecora dorme, e sopra la panca la pecora nel targo. Lui ci crede. Cioè gli predica il cattolicesimo, il protestantesimo, l'evangelichesimo, il geovesimo, il mormonesimo. Cioè il broccolo umano lo riceve. Perché? Perché è un broccolo. Ha visto mai i broccoli? Ecco. Quindi i broccoli ci sono di tanti tipi. Cattolici, protestanti, evangelici, geoviani, mormoniani, eccetera. Quindi non è che la verità cambia. Dobbiamo abbandonare queste cose e andare a seguire Gesù. Forza fratellini, dai, dai, dai. Che non c'è tempo per le sciocchezze, per le religioni. Ora, se chiediamo a questa gente di confermare con le scritture, cioè come a Ciderbola arrivano al rapimento prima della tribulazione, si perdono. Perché? Perché non c'è scrittura. Infatti ha detto Maria Carmela sto ancora aspettando. Sì, ma ancora... Ehi, caro mio. Campa, cavallo, che l'erba cresce. Non lo sanno, sono pieni di frottole. Non lo dico tutti i pentecostali, i capi, le guide, quelli che mi odiano. Quelli che quando sentono frate Giuseppe ammazziamo, sparare a vista, frate Giuseppe. prima spara e poi guarda. Ma io vi voglio bene lo stesso. La tromba del rapimento di cui Paolo parlava in Primo Corinzi 15, 52 è l'ultima di una serie profetizzata in un numero di sette, ed è l'Apocalisse 8, 2. Sei trombe suonano in Apocalisse capitoli 8 e 9. Ne manca una, la settima, e questa suona in Apocalisse 11, 15. guarda caso, suona proprio alla fine dei tre anni e mezzo di tribolazione della bestia, vedere Apocalisse 11, 1 a 7. Leggete queste scritture e vi sarà tutto chiaro. E allora, possiamo anche noi leggere velocemente solo per avere un'idea. Cioè, in Primo Corinzi 15, 52 abbiamo letto che al suono dell'ultima tromba sarà il rapimento. Le trombe, hai detto che sono sette, lo vediamo in Apocalisse 8, versi 2, hai detto, vedi sette angeli che stanno in piedi davanti a Dio e furono date loro sette trombe. Apocalisse 8, verso 2. Sei suonano in Apocalisse capitoli 8 e 9. Sì, stesso capitolo e il prossimo sei trombe già suonano. La settima manca, però la vediamo che suona in Apocalisse 11, andiamo lì, verso 15. Guarda caso è dopo la tribolazione che nello stesso capitolo Apocalisse 11 c'è la tribolazione della bestia, ti dà anche il numero 42 mesi, alla fine di questi Apocalisse 11, verso 7, i profeti vengono uccisi, suona la tromba. Wow, l'hai detto più veloce di me. Apocalisse 11, 15 suona la tromba. Perfetto. Apocalisse 11, 15 dice il settimo angelo sono la tromba e vediamo che è dopo che i due testimoni vengono rapiti. È dopo il rapimento. Va bene. È molto facile, molto facile. Ma andare al Vecchio Testamento è veramente una trombatura. Cosa volete andare lì a strombazzare il Vecchio Testamento? Lasciate perdere il Vecchio Testamento. Sì, ci sono delle leggi che sono ancora valide, sì, ma il rapimento è spiegato bene da Paolo, dall'Apocalisse, Apocalisse 20, Signore Gesù 20, verso 4, è spiegato bene il rapimento, Primo Testo Nolicesi 4, 15. Perché andiamo lì e dimostriamolo matematicamente quando è il rapimento? Ok, dove andiamo? Dove vai? E vai Primo Testo Nolicesi, andiamo, Primo Testo Nolicesi 4, 15. L'abbiamo già fatto, questo vale la pena di 5 minuti di farlo. Cioè un altro modo di dimostrare perché questo con le trombe lo abbiamo dimostrato? Lo dimostriamolo matematicamente con Apocalisse 20, verso 4. O l'abbiamo fatto di recente quello? Sì, non lo facciamo di nuovo. Diamo il link ai fratelli. Io insisto. Tu insisti? Ok, fine. Allora, tu devi accontentare il predicatore ogni tanto. Ogni tanto sempre l'accontento. Perché questo qui sarà un video separato questo. Ok. E allora porta pazienza e ci sono tante pecorelle che sono confuse che gli imbrogliono e gli dicono che sarà prima la tribolazione poi non viene niente e perdono la fede. Ok. Invece del rapimento c'è il marchio della bestia. Op, Dio mi ha imbrogliato, Dio non ti ha imbrogliato. Sei tu fessacchiotto che ti sei fatto imbrogliare da questi capi pentecostali eccetera. Che sono loro praticamente che stanno confusionando tutto. Primo tessalonicesi? 15 al 17 e fratelli ripeto l'ho già detto questo nel passato per capire questa analisi matematica cosa serve Angela? La Bibbia? Carta e penna. Una penna se non fate carta e penna non lo capite. dovete scriverlo. Pronti? Sì. Ripetiamolo di nuovo per i fratelli nuovi. Vai. Leggere. Primo tessalonicesi 4 15 a 17 Poiché questo vi diciamo mediante la parola del Signore che noi viventi i quali saremmo rimasti fino alla venuta del Signore non precederemo quelli che si sono addormentati perché il Signore stesso con un ordine con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo poi noi viventi che saremo rimasti verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria e così saremo sempre con il Signore primo tessalonicesi 4 da 15 a 17 ok ok allora scrivete allora vedete numero 1 cosa c'è qui la prima cosa c'è il rapimento o risurrezione non ve lo dico io me lo dite voi a me allora dice che prima risusciteranno i morti in Cristo poi noi viventi verremo rapiti allora primo cosa viene la risurrezione o il rapimento la risurrezione dei morti risurrezione e il secondo cosa viene poi noi verremo rapiti dice poi dovete scrivere scrivere se no non capirete prima risurrezione secondo rapimento Apocriste 20 verso 4 di corsa che Angela ci apremura oggi verso 4 poi vidi dei troni a quelli che vi si misero seduti fu dato di giudicare e vidi le anime di quelli che erano stati decapitati per la testimonianza di Gesù e per la parola di Dio e di quelli che non avevano adorato la bestia nella sua immagine e non avevano ricevuto il suo marchio sulla loro fronte e sulla loro mano essi tornarono in vita e regnarono con Cristo per mille anni allora questo assomiglia Apocalisse 20 verso 4 assomiglia questo a tribolazione o no? sono decapitati sì ok il marchio della bestia sì sì cosa assomiglia questo? persecuzione allora 5 e 6 due scritture gli altri morti non tornarono in vita prima che i mille anni furono trascorsi questa è la prima risurrezione beato e santo è colui che partecipa alla prima risurrezione su di loro la morte seconda non ha potere ma saranno sacerdoti di Dio e di Cristo ecco allora carta e penna scrivere numero 1 cosa vediamo qua la tribolazione o la risurrezione numero 1 prima sono decapitati cioè perseguitati per la loro testimonianza ecco e poi tornarono in vita e regnarono con Cristo per mille anni allora numero 2 cos'è? prima è la persecuzione dopo è la risurrezione ok scritto quello e adesso mettere insieme primo testo londicesi 4 15 a 17 con queste scritture dell'Apocalisse mettere insieme e datemi i numeri allora in testo londicesi abbiamo visto prima la risurrezione dei morti poi il rapimento in Apocalisse abbiamo visto prima la tribolazione poi la risurrezione ok adesso metti questi qua in ordine allora metti tre numeri 1,2,3 al primo posto cosa metti? tribolazione tribolazione secondo posto? risurrezione terzo posto? rapimento rapimento ah sì perché? perché testo londicesi dice prima la risurrezione dopo il rapimento Apocalisse 20 verso 4 dice prima la tribolazione dopo la risurrezione quindi se metti insieme questi punti controllate voi non ve lo dico io l'ordine viene e vi risulterà prima tribolazione seconda risurrezione terzo rapimento e come vedete vi serviva carta e penna allora va bene Angelina ho fatto veloce? sì complimenti ho fatto veloce grazie accetto il complimento sì andiamo al prossimo per cortesia amici religiosi non vi offendete non andate in giro a dire che io sono sono questo lasciate perdere me che io non valgo niente parlate dalla parola se non vi piace la parola quello che io dico è inutile che ve la prendete con me io non c'entro niente non valgo niente alla parola parliamo di Gesù parliamo del messaggio se non vi piace il messaggio per favore non sparate sul messaggero che andate neanche mi conoscete se volete andare a credere a quelle cretinate che internet la gente fotocopia e stampa perché c'hanno la zucca vuota e possono solo fotocopiare e stampare andiamo Angelina ok andiamo al prossimo ad Elon Musk per aver guardato il video